Colleghi, studenti, parenti ed istituzioni si sono stretti commossi intorno al feretro del professore Nuccio Ordine nella Camera Ardente nell'University Club dell'Unica per portargli un ultimo saluto, un ricordo. Numerosi sono intervenuti per ricordare la sua figura. Una grave perdita, ha dichiarato il rettore Nicola Leone, innanzitutto per l'Università della Calabria, per i suoi studenti ed allievi. Ne ha formato davvero tanti valenti studiosi. Una perdita per la Calabria che lui ha saputo proiettare, di cui ha saputo proiettare un'immagine positiva nel mondo. Perché il professore Ordine è stato un grande studioso, ha riconosciuto in tutto il mondo. Un suo libro è stato tradotto in 24 lingue, è diffuso in 33 paesi del mondo, ha ricevuto lauree ad onore, dottorati ad onore, premie e riconoscimenti in tutti i continenti. Quindi una perdita davvero grave per la Calabria e per la nostra università. Per il rettore dell'Unica la sono numerosi i ricordi che lo legano al professore Nuccio Ordine e che vanno oltre i rapporti accademici. Con Nuccio, al di là dei rapporti accademici, noi siamo in Rambi di Diamante, siamo nati a pochi metri l'uno dall'altro. Sollevamo di domenica, per molti anni avevamo quasi un appuntamento fisso alle due dopo il pranzo domenicale. Facciamo lunghe passeggiate discutendo di scienza, di umanesimo, di università, a volte anche con opinioni contrastanti che lui difendeva con grande fervore. Ma sempre con correttezza, c'è sempre stata al di là delle opinioni una stima reciproca, un affetto che ci ha legato e ci lega da sempre. Grazie a tutti.